A Pescara la conferenza stampa del WWF Abruzzo per tracciare un bilancio sullo stato dell'ambiente e della natura nella nostra regione. Nel 2021, nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, hanno detto, l'azione del WWF non si è mai fermata grazie alle quattro organizzazioni locali, alle sei oasi e ai centri di educazione ambientali e ai nuclei di vigilanza presenti nel territorio. L'impegno per l'Orso, Lupo e Fratino, le aree protette alla tutela del territorio. Tra le pagine nere invece il taglio del parco regionale e il mancato varo di quello della costa Teatina. Filomena Ricci, delegato regionale WWF Abruzzo. Sì, purtroppo in una regione come l'Abruzzo che dovrebbe fare delle aree protette della natura, la sua bandiera e il suo vanto, abbiamo dovuto assistere nel 2021 al taglio del parco regionale, l'unico appunto regionale dell'Abruzzo, del Sirentevelino. Il perimetro del parco è stato ridotto, quindi vuol dire che alcuni territori che prima erano sotto la tutela dell'area protetta, adesso invece non hanno più questo vincolo. Lo aspettiamo da anni che venga reso funzionante invece il parco della costa Teatina, che sarebbe fondamentale per dare un indirizzo, una programmazione a un'altra area di interesse per l'Abruzzo, che è quella costiera e per dare dei paletti allo sviluppo che vogliamo della costa Teatina, della costa dei Trabocchi, che è un posto unico che abbiamo solo in Abruzzo e che il parco potrebbe in qualche modo indirizzare e valorizzare. Andrea Natale, coordinatore istituto aree protette WWF Abruzzo. Le difficoltà sono sempre le stesse, sono legate purtroppo ai fondi ordinari che arrivano dalla regione sempre in ritardo senza una programmazione vera e propria sui tre anni. Questo ci mette in difficoltà come riserve e soprattutto gli enti gestori che sono i comuni non riescono a pianificare gli interventi e spesso sono costretti a fare anche delle variazioni di bilancio. L'aspetto positivo è che comunque, anche riscontro a quelle che sono le difficoltà, la mancanza di socialità legate alla pandemia, c'è una richiesta di natura e c'è una voglia di tornare in natura. Quindi noi vorremmo attrezzarci in modo tale anche per dare una risposta a tutte le persone che sentono la necessità di tornare a respirare all'aria aperta. Ripartire dunque dalla natura. Assolutamente, è l'antivirus per antonomasia. Se noi rispettassimo gli equilibri della natura, tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare ce li saremmo evitati.